non proprio diciamo che sto guardando mia cara signora io ho voluto fare apposta degli accertamenti ben specifici per capire un attimino il problema qual è esattamente però a questo punto volevo fare una domanda un po un po intima un po particolare ma lei da quanto tempo non fa più sesso dottore non mi ricordo precisamente perché perché guardi un attimo lo schermo e si signora lei è proprio messa così ed è veramente un peccato questa cosa dottore che cosa si può fare e cara signora diciamo che si potrebbe fare che cosa se torniamo un attimo di là sul lettino e si rispoglia da capo io le faccio vedere cosa si può fare così risolviamo definitivamente il problema che poi non ne ho più e poi non ne ho più allora dottore da qui devo cucinare stasera si mi piace andiamo si carmena chiudola la porta a chiare che devo fare una morata visto la signora carmena arrivo subito signora